Correva l'anno 1987, il nuovo presidente del Milan, ne avete già capito di chi parlo, subito dopo aver comprato il Milan chiama sulla panchina della squadra un giovane e semi sconosciuto allenatore che si era fatto notare proprio a Milano in una partita di Coppa Italia quando il suo Parma, che allora era in Serie B, mise in grosse difficoltà il Milan di Nils Lidl. Con lui è nato un nuovo vocabolario del calcio, le mitiche ripartenze, la squadra corta, la difesa alta, il pressing, le sue squadre hanno sempre giocato con una mentalità nuova e controcorrente, gioco totale, giocatori duttili, sia in fase difensiva che in fase offensiva, tutti avanti e tutti indietro, con una grande importanza attribuita al collettivo, con i campioni che si sacrificano lo schema, lo sottolineo, con i campioni che si sacrificano lo schema, la collaborazione, la cooperazione, la conseguente umiltà, l'umiltè, come direbbe, chiedo scusa a Rigo, come direbbe il grande Crozza, che hanno fatto delle sue squadre, delle squadre vincenti, sviluppare il collettivo piuttosto che l'individualità, per lui è stato un successo, credo che pochi team manager e coach siano stati più vincenti di lui in un tempo relativamente concentrato, non posso citare tutte le sue vittorie ma non posso non ricordare il titolo di vice campione del mondo, è stampata in modo indelebile nella nostra mente la finale mondiale della nostra nazionale con il Brasile, chiusa 94, terminata sullo 0-0 dopo 120 minuti e chiusa con il rigore di Roberto Baggio, io credo che siamo tutti, tutta la nostra generazione, una generazione di sopravvissuti ai rigori di Pasadena, allo stress dei rigori di Pasadena, quindi abbiamo un testimone che ci parlerà in modo particolare del gioco di squadra, dell'importanza del team che introduciamo con una videoclip. Grazie a tutti! 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 Buongiorno! Buongiorno! È un gran piacere essere qui con voi, anche se per molti posso essere fuori tema, e anche se Ascoli mi ricorda, io sono venuto ad Ascoli poche volte, la prima volta col Milan in Coppa Italia perdemmo, la seconda volta col Milan e venne spulso Gullit, poi sono venuto un'altra volta quando ero direttore al Parma, e non avevo però mai visto questa città, avevo visto questo stadio, devo dire non moderno, e qui ho usato anche un enfemismo, e invece ho visto questa città bellissima, il centro veramente mi ha affascinato, ho perso un po' di tempo a guardare, e in questo però ho visto quanta storia abbiamo alle spalle. E questa storia ci deve essere un po' più ottimisti. Sono vent'anni che giro l'Italia per parlare di squadra. Quando si parla sempre di un argomento vuol dire che o non sono convincente io, o proprio non abbiamo un'idea di che cosa sia la squadra. Prima sentivo l'introduttore che parlava che io pensavo che fosse importante alla squadra. La mia domanda è, parliamo di uno sport individuale o di uno sport di squadra? Allora se parliamo di uno sport di squadra evidentemente è importante alla squadra. E non pensavo che il problema fosse risolto da un singolo giocatore. Pensavo di dover partire da una squadra per migliorare il singolo. Ho sempre pensato che il collettivo migliori il singolo. Ho sempre pensato che puoi avere i più grandi campioni del mondo ma se non giocano insieme, se non c'è un'interazione non solo psicologica ma tecnico-tattica, quella squadra non avrà risultati. Io sono stato nel 2005-2006 direttore di football a Real Madrid, avevamo i più grandi giocatori del mondo. Ronaldo, il brasiliano, non questo attuale, Zidane, Figo, Raul, Beckham, Roberto Carlos, Casillas e poi me ne scordo tanti altri, Samuel. Avevamo i più grandi giocatori del mondo. Vicino a me in tribuna c'era Alfredo Di Stefano, mitico giocatore, presidente onorario del Real Madrid, non finiva mai una partita, se ne andava sempre prima e diceva Otro è spettacolo, feo e aburrido, me vuoi. Altro spettacolo, brutto e noioso, me ne vado. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se non c'è una grande idea puoi avere dei grandi interpreti ma questi interpreti non potranno esprimersi. Diceva un comediografo importante come Brecht che anche gli artisti più affermati hanno necessità dell'aiuto degli altri per esprimersi completamente. Nel calcio si fa fatica a capire questo, ignoranza, scusate il termine esatto. Si pensa di risolvere un problema complesso attraverso un singolo, ma purtroppo lo pensiamo noi in generale. pensiamo di risolvere qualsiasi problema partendo dal singolo. Sento i politici che parlano che bisogna fare squadra, ma non fanno squadra. Sento nelle aziende che bisogna fare squadra, ma ci sono sempre tante controindicazioni. Molto probabilmente siamo noi che non siamo ancora pronti per fare squadra. Facciamo fatica a uscire dal nostro egoismo, egocentrismo. Non abbiamo ancora una personalità così equilibrata. Non siamo supportati da una conoscenza così forte. E siamo sempre convinti, perché ci siamo abituati nel tempo, di riuscire a fare qualche cosa attraverso la furbizia. La parola furbo è una parola che non lo troverete né nel dizionario spagnolo e tanto meno inglese. Per noi invece è stato un momento di straordinaria apologia, furbo, la furbizia. Ecco, io ho capito bene che tutto dipendeva dalla persona, dal suo impegno, dalla sua motivazione, alla ricerca dell'eccellenza. E quindi mi preoccupavo, in qualsiasi squadra dove fossi andato, di trovare delle persone affidabili. Delle persone che avessero amore per la propria attività, che avessero passione, che fossero generose, che fossero altruiste, che fossero possibilmente anche intelligenti e che avessero anche cultura. Mi ricordo che al mondiale del 94 avevo fatto, prima di partire, accanto a ogni nome dei precelti, un segno diverso a secondo del stato di forma fisico, delle capacità tattiche e delle capacità temperamentali e caratteriali. Mi trovai che su 22 ne avevo 20 che avevano dato il massimo. Ero sicuro che avremmo dato il massimo. E siccome io sono molto esigente con me stesso, ma solamente chi è esigente con se stesso sa valutare ciò che vale e ciò che non vale, Io non mi faccio condizionare dal risultato finale, non cambio articolo come successe per molti giornalisti quando stavamo perdendo 1-0 in 9 contro 11 contro la Nigeria e dovevano scrivere l'articolo in contemporanea perché poi c'erano sei ore di diversità quindi non riuscivano più a trasmetterlo e avevano scritto un articolo negativissimo perché stavamo perdendo. All'ultimo minuto dove devo dire abbia una visione negativa, io sono sempre stato molto ottimista e positivo, mi vedevo che stavo salendo una scaletta di un aereo che non sapevo dove mi avrebbe portato, non è una buttuta ma è la verità, invece segniamo e vincemmo la partita. Sapete cosa fece la maggior parte di questi giornalisti? Strapparono l'articolo e lo riscrissero. Ah, questa è serietà, questa è capacità di giudizio, questa è migliorare le persone, questa è saper leggere il risultato. Io ho avuto tanta fortuna nella mia vita, la fortuna più grande che ho incontrato, tutti pensano che sia stata quella di trovare dei grandi giocatori. No, prima di tutto la fortuna più grande che ho incontrato è stata trovare delle società, delle società serie, competenti, con delle pianificazioni a lungo termine. Con la pazienza che può avere solamente chi sa. Le mie partenze sono sempre state disastrose, da quando ho cominciato in seconda categoria nei dilettanti, con la squadra della mia cittadina, e lì avevo un vantaggio, devo dire, perché io ero anche un dirigente e mettevo fuori qualche soldo, quindi perdemmo tutte le partite per campionato, ma non mi licenziarono perché non costavo nulla e dissero aspettiamo un attimo, poi vincemmo il campionato, poi vincemmo il campionato. Anche lì una squadra di ragazzi, giovani, perché chi sa, lavora con i giovani, perché i giovani sono più recettivi, hanno più entusiasmo, hanno più generosità, fisicamente sono meno fragili, hanno una capacità di apprendimento migliore. Chi non sa, non può prendere i giovani. E noi siamo una nazione vecchia, nella vita politica, sociale e anche sportiva. Solamente Cipro è più vecchio di noi, in tutta Europa. E con gente grande, già viziata, diventa più difficile far squadra. Io ho sempre pensato, e forse mi sarò sbagliato, che il calcio fosse uno sport di squadra. E ho avuto, ripeto, la fortuna di trovare queste società. Il massimo l'ho trovato quando ho trovato non solo una società competente, ma anche economicamente potente. Prima mi prendevano tutte le società che non avevano soldi, perché il mio effetto alone era molto minimo. Mi ricordo che dovevo andare a Rimini e il giornalista sul Corriere dello Sport Stadio scrisse 5-6 nomi che potevano andare a Rimini. L'ultimo mise anche il mio nome, aprì una parentesi, per favore non facciamo certi nomi. Chiuse la parentesi. Questo ero come ero accolto. E che fatica però, in un paese come il nostro, in un paese molto conservatore, a volte anche di un conservatorismo becero, dove il convenzionalismo sta ai vertici, come è difficile avere delle idee e proporle. E ci vuole una fortuna enorme, perché, ripeto, le mie partenze sono sempre state disastrose, anche perché se vuoi costruire una baracca non devi fare delle fondamenta profonde, ma se vuoi costruire un grattacielo devi fare delle fondamenta profonde. È quello che molti miei colleghi o ex colleghi non stanno attuando oggi, perché fanno dell'opportunismo, sapendo che così si stanno giocando contro. C'è un allenatore che io stimo tantissimo, ne stimo tanti per la verità, capisco anche la loro situazione, ma se sei condizionato dal successo e dei soldi, bene che tu vada, hai messo delle barriere insuperabili perché tu possa esprimerti compiutamente. I soldi e il successo devono essere una conseguenza, non un fine. Il fine deve essere l'amore che hai per quello che fai, la passione che hai per quello che fai, il perfezionismo che hai, la volontà di migliorarti, la certezza che si può sempre fare di più e meglio, che sono poi cose antiche. Nell'antica Grecia la cultura del perfezionismo era l'obiettivo maggiore. In qualsiasi ambito dovevano esercitare questa attività al meglio delle proprie capacità e della propria istruzione. Dopo seguiva l'eccellenza che voleva dire che anche quando avevi vinto la volta susseguente dovevi far meglio della volta precedente. Io mi ricordo che vincemmo in sei mesi la Coppa dei Campioni, la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale, che sarebbe un po' come la Coppa del Mondo a livello di club. E alla sera una grande festa a Tokyo. Non mi era piaciuta la partita, non mi erano piaciute delle cose, io non ho mai giudicato solo il risultato. E alla fine della festa chiamai tutti i miei collaboratori, facciamo una riunione. E uno mi disse, dai Arrigo, prendiamoci 24 ore di riposo. E io risposi, eh sì, così gli altri ci superano. Pavese diceva, ossessione è arte. Io ho sempre pensato che ossessione fosse arte. E ho sempre pensato di dare tutto senza risparmiarmi. È vero, non ho durato tantissimo, ma anche perché dando tutto non è difficile durare tantissimo. Quelli che durano tantissimo, molto probabilmente non danno tutto. E andare contro i mulini a vento, beh, io dicevo, Don Quicotte ha fatto una bella fatica. Anche chi ha il coraggio di avere delle idee, di proporle in un paese che ama sentire cose già vissute e già sentite e che ha paura di tutto quello che è nuovo, beh, dico che sono stato molto fortunato a trovare sempre società senza avere procuratori alle spalle, trovare società che mi abbiano preso. Quando ebbi la fortuna di andare al Milan li incontrammo con una squadra di Serie B tre volte, vincendo due volte a San Siro e pareggiando in casa e eliminandoli. Quella squadra, nell'89, è stata considerata da War Soccer, War Soccer, per chi non lo sa, è la Bibbia del calcio, dai suoi esperti, la migliore squadra di tutti i tempi, a livello di club, nel mondo. Ma noi, quando abbiamo fatto questo lavoro, pensavamo questo? No, nessuno. Pensavamo solamente di fare il lavoro al massimo delle nostre capacità, dando tutto quello che potevamo dare e impegnandoci il più possibile. Avevo trovato, prima di tutto, una società importante, una società organizzata, una società paziente, competente, che ci metteva a nostro agio, dove ti realizzavi compiutamente e completamente, dove avevi un senso di appartenenza, una gioia di esserci. Una società che non ti ha mai mancato e tolto autorevolezza. Ognuno aveva il suo compito. Quindi, un elemento è questo. Il secondo elemento, una società che abbia, che sapesse scegliere e che avesse un obiettivo grande, un grande sogno. C'è Paolo Coeio. Grande scrittore. La capacità di realizzare un sogno rende la vita interessante. Quando arrivai Berlusconi mi disse dobbiamo diventare la più forte squadra del mondo. Io dissi no. Può essere frustrante e anche limitativo. Frustrante dice lo capisco, limitativo no. Quando alcuni anni fa, ripeto, Borshoccer stabilì questo, disse ha visto perché è limitativo. Non ci dobbiamo porre mai limiti. Ma il nostro obiettivo non deve essere quello di vincere, di fare le cose bene. Voi pensate, quando fate le cose bene, quanto è divertente, quanto è creativo. E quando la cosa si realizza, ma che pienezza, che armonia interiore, sentite, che crescita umana c'è. Noi lavoravamo tantissimo. Un giorno Van Basten mi disse Mister, lavoriamo troppo, così non ci divertiamo. Dico no, ci dobbiamo divertire per una proprietà transitiva. Quando sentiamo il pubblico che si diverte, che è felice. Questa deve essere la nostra gioia. Per far questo siamo stati fortunati. Perché siamo stati fortunati? Siamo stati fortunati perché abbiamo trasformato una passione in un lavoro che poi anche economicamente è ben retribuito. Per me i soldi non erano importanti. Quando andai al Milan presi meno di quanto percepivo il Parma. Firmai in bianco. premiai il loro coraggio. Dopo mi feci pagare, non quanto avrei potuto, ma mi feci pagare perché capì che tanto più mi pagavano e tanto più pazienze e rispetto avevano. Ma per me l'importante era insegnare calcio, dare un'idea di giochi importante, creare qualche cosa che fosse armonioso, che piacesse. Uno dei complimenti maggiori me lo fece Baglioni quando mi disse il suo calcio è musica. o il povero Lucio Dalla al quale ero legato oltre ad essere conterraneo da amicizia come con Gianni Morandi i quali sentire, vedere il tuo calcio ci riempie di gioia. infatti quando mi chiedono a volte mi invitano all'estero a tenere e mi chiedono quali sono stati i momenti più importanti della mia carriera. Io ne cito due. Quando nell'ott... adesso non mi ricordo esattamente l'anno... nell'ottantasette, con il Parma non vincemmo il campionato di B, avevamo vinto quello di C, non vincemmo quello di B per arrivare in Serie A con una squadra di ragazzi, proprio ragazzi. E veni portati in trionfo. E quando nel 90 il Napoli vinse un campionato giocando peggio di noi con momenti discutibili e i tifusi del Milan mi portarono in trionfo. In un paese che riconosce solo la vittoria e che ha fatto del calcio fino adesso una rivendicazione sociale portarti in trionfo vuole dire che avevi fatto qualche cosa di importante e che rimaneva nella mente di queste persone. Questa è stata la soddisfazione più grande che io possa avere avuto. Più che vincere delle coppe dei campioni, più che vincere campionati e di questo genere. Dicevo della società al secondo posto la conoscenza, l'esperienza, la storia che lo staff tecnico deve dare. Un copione importante, il tecnico è l'autore ed è quello che attraverso la didattica poi riporta sul campo quelle che sono le sue idee. È quello che ha la sensibilità, la flessibilità, l'intuizione, è quello che dà i tempi di gioco. i giocatori sono interpreti abili ma quello è un copione, quello che chiamano in Spagna guion, il copione da seguirci dove devi fare durante la settimana tante simulazioni affinché il tuo sistema nervoso recepisca tutto e abbia una reazione positiva immediata in partita e tu devi percepire se un giocatore è partito un secondo prima o un secondo dopo, se è stato 30 centimetri più avanti o 30 centimetri più indietro perché si fa gol in questo modo per esaltare poi le loro qualità. Quindi uno staff tecnico che lavori in questo modo non trascurando nulla, che abbia questa cultura del perfezionismo e che abbia solo una certezza che si può sempre fare di più e meglio. Le mie notti erano insonni con mille dubbi, io non vivevo di certezze, vivevo di incertezze. Però alla mattina quando mi svegliavo la prima idea che avevo era quella che ritenevo giusta. Poi dopo andare a scegliere la terza componente importante, i talenti. Talenti ho detto, non solisti. Chi è amante di musica sa che 11 solisti non hanno mai fatto né buona musica né una buona orchestra. È perché nel calcio devono fare un buon calcio. Quindi non solisti. Una squadra dove ci fosse, ripeto, un'interazione umana, psicologica, tecnica, tattica. prima di prendere un giocatore mandavo un mio uomo di fiducia a vedere come si allenava, come si comportava con i compagni, con gli avversari. Ho detto, voglio sapere anche quello che mangiano. Le volte che mi sono sbagliato, mi sono sbagliato sempre sull'uomo, mai sul giocatore. Ecco, un talento che giochi con la squadra, per la squadra, tutto campo, tutto tempo. Molti giornalisti mi chiedono sempre questo giocatore, tu, è un giocatore che gioca con la squadra, per la squadra, a tutto campo, tutto tempo? Bene, per me andrebbe bene. Se non è così, non mi va bene. Perché altrimenti non devo pensare di poter fare una squadra. Ma lo pensa chi non ha un'idea importante, chi non ha un'idea importante spera che questo giocatore con la sua abilità riesca a completare quello che lui non sa. io ho diversi amici nel calcio, direi quasi tutti. Ci sono allenatori che forse hanno un attimino più idee, ma anche sicuramente hanno più personalità. In Italia è importante, perché se tu vuoi attaccare, prima si sentivo dire, se vuoi attaccare il cavallo dove vuole il padrone, è difficile che tu possa pensare poi di creare una squadra. quando io ero al Milan dopo il primo anno vincemmo, il dottor Berlusconi voleva un ragazzo che si chiamava Borghi, un giocatore di buona qualità tecnica, ma io avevo sempre detto per stare al Milan bisogna essere dei grandi professionisti, dei perfezionisti, generosi, altruisti, con una coscienza professionale di altissimo livello. Benissimo, questo era esattamente il contrario. Io dissi, dottore, io non me la sento di mancare di rispetto a lei, ma non me la sento neanche di mancare di rispetto a me stesso e di aver ingannato i giocatori. Me ne vado. Sto fermo un anno per riconoscenza, ma io non posso prendere questo giocatore, perché è il contrario esatto di tutto quello che ho detto fino ad oggi. Ecco allora la serietà delle persone, l'impegno delle persone, quanto diventano fondamentali. Quella squadra ha vinto per un certo periodo con me, per un altro periodo con Cappello, per nove anni nel calcio modeno dove dicevano che era un impossibile. Abbiamo partecipato in tre anni a due coppe dei campioni vincendone due. era un gruppo straordinario o straordinario come vogliono che dica. la maggior parte di loro fanno gli allenatori ad altissimo livello. Van Basten e Rijkaard hanno allenato l'Olanda, Rijkaard ha vinto la coppa dei campioni col Barcellona, Ancelotti ha vinto due coppe dei campioni col Milan campionato, Donadoni è stato allenatore della Nazionale, adesso anche Stroop è diventato allenatore del Pescari in Serie A. Una squadra che devo dire guardate io quest'anno sono andato ho tanti impegni fra cui quello delle nazionali giovanili che mi occupano totalmente perché giochiamo circa 100 partite all'anno e io che faccio parte del partito meglio sa bondare quando è Ficere cerco di andare a vedere anche gli allenamenti perché per aiutare gli allenatori a portare avanti un discorso univoco che vuol dire avere uno stile di gioco che inizia l'addestramento all'età di 14 anni per terminarlo a 21 per poi dopo metterli con la prima squadra. però in quel poco tempo che avevo anche perché il Pescara aveva 4-5 nostri giocatori che giocano la nazionale under 20 o 21 vedevo spesso il Pescara dove vedevi un'identità prima sentivo parlare di identità identità vuol dire stile vedevi uno stile uno arriva e dice qui l'allenatore Zeman la maggior parte delle squadre uno va chi è l'allenatore no qui lo so guardate quindi dicevo un talento un talento che possa giocare con la squadra e per la squadra un talento che ti manda tu mandi un'idea loro te la mandano corretta salta fuori un ping pong dove c'è una crescita di tutti dove cresce l'autostima di tutti quando si ha vinto che cosa bisogna fare in Italia si dice squadra che vince non si cambia perché squadra che vince si cambia si cambia se se tu vedi che qualcuno ha perso questa motivazione straordinaria la motivazione è come la benzina voi potete avere anche delle Ferrari se una Ferrari non ha benzina va avanti meglio una 500 quindi la motivazione diventa fondamentale ma accanto alla motivazione dopo c'è il gioco che diventa fondamentale allora le tre componenti le ripeto club conoscenza e talento con questo trittico con questo trittico è difficile non vincere sapendo che ripeto il calcio non è uno sport individuale ma è uno sport di squadra e si deve partire dalla squadra dal gioco per arrivare al singolo il singolo ti può far vincere una partita ma è la squadra che ti fa vincere il campionato la dimostrazione è stata quest'anno dove Ibrahimo ci ha fatto 28 gol il cannoniere della Juventus che ne ha fatti di più ne ha fatti 10 io ho molto affetto per il Milan però sono anche uno sportivo e devo ammettere che la squadra che quest'anno mi ha divertito di più è stata la Juventus come in Serie B è stato il Pescara e devo dire e devo dire che ha vinto la Coppa dei Campioni un mio ex giocatore un ragazzo stupendo di Matteo però lui quando mi ha visto ero in televisione si è messo le mani nei capelli perché ha detto so già quello che mi vuol dire però non potevamo fare diversamente no io credo che si possa sempre fare diversamente comunque lui è stato bravo a tirare fuori quelle risorse umane anche le più nascoste che un allenatore deve saper tirar fuori lui è riuscito a tirarle fuori non attraverso il gioco la didattica ma molto probabilmente attraverso la psicologia complimenti anche a lui allora fare squadra è importante beh la sinergia tutti sapete che cosa significa no quando io vedo parlando su parlando venendo su dalla Romagna adesso stavo parlando con con il presidente Abete presidente della federazione italiana gioco calcio e dicevo coraggio perché non troviamo dei mostri ho visto adesso un po' di partite di squadre ne ho viste una ho visto dei gruppi ma non delle squadre ma non solo nello spirito di squadra come crediamo noi ma nel gioco immaginate un esercito sparpagliato può essere vincente quando vedete delle squadre spaccate sconnesse ieri secondo voi potranno essere vincenti sì finché non trovano una squadra che è veramente una squadra questi sono dei gruppi molte volte anche nello spirito concludo dicendo l'importanza di una squadra almeno nello spirito ve l'ha data la nazionale italiana del 2006 siamo partiti che la maggior parte della stampa e anche dei tifosi non volevano che partisse Lippi Cannavaro e Buffon per lo scandalo di Calciopoli abbiamo vinto un campionato del mondo dove abbiamo messo da parte le invidie le gelosie gli arrivismi i protagonismi e dove abbiamo tutti quanti tirato con forza nella medesima direzione siamo stati talmente bravi come squadra che abbiamo vinto un mondiale con capo cannoniere e un difensore Materassi un record questa è la forza della squadra questa è la però purtroppo quasi sempre arriviamo a delle motivazioni così straordinarie a mettere da parte i sentimenti meno nobili per innalzare quelli nobili attraverso non la nostra cultura ma attraverso delle situazioni esterne come gli scandali la paura del pubblico ludibrio ecco il giorno in cui invece riusciremo a dar tutto attraverso la nostra cultura in quel momento allora sì che saremo vincenti grazie 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 sono stato nei tempi assolutamente grazie ad Enrico Sacchi grande tempra di motivatore che cercheremo di trasmettere da domani alle nostre squadre ma io volevo approfittare posso aggiungere una cosa che mi è piaciuta moltissimo quando ero in Spagna dico in spagnolo poi non mi ricordo chi è che l'aveva detto hai uomini che luce un giorno e sono buoni ci sono uomini che lottano un giorno e sono buoni hai uomini che luce un molti volte e sono migliori ci sono uomini che lottano molte volte e sono migliori hai uomini che luce un tutta la vita e sono le imprese di me ci sono uomini che lottano tutta la vita e sono gli impresendibili auguri impresendibili grazie scusate volevo approfittare della presenza di Enrico Sacchi per una domanda che è un po' di tempo che mi gira nella testa sviluppando un po' un paradigma un parallelo tra un'azienda e una squadra di calcio io credo che possiamo individuare alcuni topics alcuni momenti fondamentali che possono essere ad esempio la pianificazione strategica il ritiro pre partita il budget che è il ritiro precampionato la pianificazione strategica il budget è in qualche modo il pre partita in cui si studiano gli avversari gli schemi le marcature poi c'è la semestrale che è tra il primo e il secondo tempo come l'allenatore motiva la squadra dopo sei mesi di vita aziendale e poi c'è il bilancio che come dire è rivedere la moviola insomma si esulta in un senso e invece ci si lecca le ferite qual è secondo te la chiave l'elemento più importante intanto ti devo dire che io per studi e anche per lavoro mio padre era proprietario di un calzaturificio e quindi vengo dall'industria e quindi ho cercato sempre di portare quelle esperienze che avevo acquisito nel lavoro allora prima dicevo io avevo un'idea di calcio sarebbe come uno ha un'idea nella propria azienda no? un'idea di calcio e cercavo di andare a prendere le persone più adatte i giocatori più adatti per quell'idea non sottovalutando mai la persona ripeto io partivo sempre di lì anche adesso con le nazionali giovanili sempre dico prima ci deve essere un'etica di gruppo etica di gruppo consiste che non devi tradire i compagni la società l'allenatore tutti questi e dopo il lavoro cercare di lavorare molto non ero sicuro di essere più intelligente di altri però lavoro più degli altri quindi io lavoravo veramente 16-17 ore al giorno 18 ore al giorno pensavo sempre al calcio mentre nell'intervallo lì è importante la sensibilità cosa vuol dire sensibilità vedi io mi ricordo con la nazionale italiana prima partita di qualificazione mondiale a Cagliari fine del primo tempo due volte si sbaglia il portiere nostro 2-0 per loro Mattarese mi raccontava che venne a sentire quello che dicevo e dice che io ero calmissimo e gli dissi guardate allora intanto per rimediare questa partita dobbiamo mettere a posto prima di tutto la fase difensiva e spiegai quello che si doveva fare altre volte invece mi ricordo una volta che stavamo pareggiando in casa con la Juventus e se vincevamo eravamo campioni d'Italia e mi raccontarono che passò e io urlavo come un disgraziato perché vedevo la squadra che era entrata la sindrome del successo aveva paura e quindi cercavo di svegliarli e passò Boniperti dicendo e premetto che io non ho mai odiato nessuno in vita mia e disse lo sapevo che ci odia non era che odiassi loro volano vincere noi ecco quindi l'obiettivo finale quale poteva essere il budget intanto io non volevo che spendessero molto e mi ricordo che Gagliani mi disse guarda Rigo che se al Milan possiamo spendere più spenderete meno pazienza avrete quindi non volevo che spendessero molto e gli portai tre giocatori del Parma per allora per due miliardi mi sembra e erano due terzini avevo Tassotti un ragazzo stupendo che dopo un po' gli dicevo sai perché io ho fiducia in te e lui mi disse sì sì ho capito perché altrimenti ne avrebbe portati quattro di terzini quindi non volevo che si spendesse molto e i risultati beh un risultato per me era far divertire il pubblico allora quando io sono arrivato al Milan avevamo 32 mila abbonati il secondo anno tu sai quanti nevamo? 66 mila questo vuol dire in un'azienda aver fatto le cose bene molto bene grazie ad Arrigo Sacchi che accompagniamo con un grande applauso grazie a voi grazie grazie a te grazie grazie grazie